Buon martedì 17 novembre. Ieri girava un messaggio inviato a moltissime persone che allertava su una possibile chiusura di una trasmissione di inchiesta, report. Nel messaggio si diceva che era necessario che molti si mettessero alla visione di quella trasmissione sia la stessa per evitarne la chiusura perché la motivazione adotta dalla dirigenza della Rai, immagino, così era scritto nel messaggio, era che report non aveva molti spettatori e quindi si chiedeva alle persone di mobilitarsi. Molti l'hanno fatto, hanno fatto girare il messaggio, e naturalmente si sono predisposti a guardare quella trasmissione. Successivamente nel corso della giornata il giornalista conduttore della trasmissione report mette in rete un video nel quale afferma che si tratta di una fake news, cioè una notizia falsa, che report ha un buon ascolto e che non c'è in vista nessuna intenzione di chiusura da parte della dirigenza. Mi sono chiesto ma chi può avere interesse a mettere in piedi una notizia di questo genere? Chi odia report in quanto giornalismo d'inchiesta sono molti ad odiarlo, sia nel campo dell'economia che della politica, e che interesse hanno far girare una notizia di prossima chiusura spingendo le persone a guardarla? Chi ama report, che ha oscuramente saputo di queste intenzioni, ma se poi la notizia risulta falsa, dove hanno reperito queste false notizie? È stato il loro inconscio collettivo che ha subodorato attraverso una inconsapevole lettura della trasmissione degli indici di pericolosità nei confronti di un potere che naturalmente immediatamente si allerta e tende alla repressione. In ogni caso ho guardato report ieri sera ed era una trasmissione che riguardava i vaccini e un altro social network che conta mi pare due miliardi di utilizzatori, numero impressionante e che fa capo alla Cina. Ma mi soffermerò soltanto sulla questione dei vaccini e su un aspetto particolare, non entro nel merito sulla credibilità o meno di un vaccino nei confronti del coronavirus in questo momento, grande aspettativa collettiva, tutti vogliamo essere in qualche maniera protetti e liberati da questa angosciante condizione di isolamento. Quindi ognuno di di noi consapevolmente o inconsapevolmente aspetta una soluzione tecnica, non possiamo negarlo. E vi devo dire che neppure i negazionisti, i novax, mi convincono assolutamente, li trovo per molti aspetti ridicoli e purtroppo anche resi funzionali, non per loro intenzione naturalmente, ad un sistema di potere che attraverso il ridicolo del negazionismo afferma la serietà del ridicolo dell'allerta che naturalmente manipola molto spesso i numeri. Ebbene in quella trasmissione viene messa in evidenza la filantropia di Bill Gates che finanzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità con una congura cifra, uno dei maggiori finanziatori, molto più di tanti stati, che partecipa a moltissime delle industrie farmaceutiche e naturalmente viene guardato con un grande riconoscimento per la sua filantropia. Ebbene in quella trasmissione si è dimostrato senza alcun dubbio che intorno ai vaccini vi è un colossale gioco economico il quale in qualche maniera si avvale anche di investimenti pubblici. Io guardate, devo confessare, non ho ben capito i meccanismi, sono talmente strane a queste modalità di interpretazione della vita che non ne capisco manco i meccanismi e sono molto lontano. ma una cosa ho compreso, che tutto questo grande gioco di allerta sta creando una pericolosissima nebbia relativamente al fatto che non stiamo prendendo provvedimenti che sono necessari non solo in questo momento ma anche per il futuro. Mi riferisco al potenziamento che richiede investimenti anche economici dei sistemi comunitari di tutela e di promozione della salute senza i quali si lascia libero spazio alla speculazione industriale del capitalismo che ormai è imparato a essere feroce e compassionevole allo stesso tempo di quel capitalismo che rappresenta una forma estrema di psicopatologia dell'umano, cioè di una condizione, di un numero limitato di persone il cui delirio di ogni potenza e la potenza della loro tecnica genera delle condizioni che creano una grande ingiustizia sociale, di fronte alla quale la politica appare sempre più sorda e incapace di gestire la situazione, a sua volta asservita alle ragioni puramente economiche e quindi incapace di porre la salute come un bene pubblico, così come l'aria e l'acqua. Dico questo perché durante la trasmissione qualche grande dirigente di questi mega concentrati industriali affermava che i beni pubblici sono l'aria e l'acqua, non è solo l'aria e l'acqua, c'è anche la dignità umana, c'è anche la salute rispetto alla quale non ci può essere appropriazione attraverso la costruzione tecnicistica di brevetti da vendere sul mercato. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare la politica è porre mano alla stortura che ha generato, quella di aziendalizzare, rendere puramente economica la questione della salute, emendando naturalmente un controllo politico di natura clientelare ma ponendo al centro l'aspetto comunitario del bene comune. È chiaro che questo mio è un discorso politicamente astratto in questo momento ma mi porta inevitabilmente a una questione altrettanto importante, quello della salute mentale, perché questa forma di onnipotenza del capitalismo feroce e compassionevole allo stesso tempo è qualcosa che alberga nella coscienza di ciascuno di noi, più o meno consapevolmente. Noi viviamo dentro l'egida di un individualismo egemonico ed egocentrico, cerchiamo in tutti i modi di essere i padroni della nostra vita e non coloro i quali vivono la vita al servizio della vita stessa in una dimensione collettiva e comunitaria. Il Vangelo di oggi, scusate per i non credenti che magari si inalberano solo al sentir parlare della parola Vangelo, ci parla di Zaccheo. Chi è Zaccheo? Zaccheo è capo dei pubblicani, così sta scritto nel Vangelo. Capo dei pubblicani è ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, si era incuriosito, ma non gli riusciva a causa della folla. C'era troppa gente, non riusciva a vederlo perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là Gesù. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo e gli disse, Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano. È entrato in casa di un peccatore. I pubblicani erano gli esattori delle tasse e lui ne era il capo, quindi era asservito al potere dei romani. Ecco, signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcuno restituirò quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Qual è l'insegnamento relativamente alla filantropia capitalistica? semplicemente che è solo nell'incontro dell'altro da sé, nel riconoscimento che siamo tutti figli di Dio, figli di Abramo. Abbiamo un'unica origine e siamo un'unica specie. E l'unica strada per la salvezza non è la filantropia, ma la disponibilità a ravvederci, al discernimento che condivide il bene personale e moltiplica il dono nei confronti dei poveri. Tutte espressioni simboliche naturalmente, perché la bassa statura di Zaccheo è simbolicamente rappresentativa di una bassa statura morale del filantropo miliardario. Non significa condannarlo, ma invitarlo a salire sul sicomoro, a cogliere l'invito alla conversione e alla salvezza, anziché cercare semplicemente di essere osannato per la propria filantropia. Ma questo indirettamente ci porta a una condizione che svilupperemo nei prossimi giorni, che ci riporta alla questione della paura e dell'angoscia, che vengono arbitrariamente distinte come due entità, la prima la paura fisiologica, l'altra l'angoscia patologica. Questa distinzione è funzionale a una visione meccanica dell'essere umano che nega una componente fondamentale che è quella inconsapevole, che Freud chiamò inconscio, e che Jung estese, Hillman poi lo fece ancora in maniera più approfondita, all'inconscio collettivo, all'anima collettiva. Noi apparteniamo a una dimensione collettiva del quale abbiamo una parziale e limitatissima consapevolezza. Bene l'angoscia è un richiamo forte a spingerci a salire sul sicomoro per essere visti e accolti da una domanda che chiede giustizia, a partire dalla nostra vita quotidiana, a partire dalla nostra disponibilità alla condivisione. Pertanto le persone che si trovano in una condizione sintomatica di angoscia, anziché cercare di frenarla, metterla in silenzio, contenerla attraverso l'uso di barriere chimiche o di allontanamenti artificiali rispetto a una inconsapevole potenzialità perturbante da parte dell'ambiente che ti circonda quotidianamente, ebbene, quell'angoscia dovrebbe essere liberata, dovrebbe essere letta come una richiesta di attenzione, di lettura, perché l'angoscia significa sintomatologia fisica, tachicardia, difficoltà, anche respiratori a volte, tensione, cioè tutto il corpo si mette in una condizione di allerta e non sappiamo il perché, ma lui lo sa, semplicemente non abbiamo consapevolezza e molto spesso cerchiamo anche rimedi o ideativi o di intossicazione che in qualche maniera mettono a tacere questa angoscia e quando incontriamo il professionista di turno anche lui si adopera per spegnerla. Franco Basaglia disse che l'angoscia va liberata e una volta liberata va ascoltata e condivisa in una perseverante azione quotidiana, qualsiasi sia il sintomo, che sia la maniacalità diversamente espressa, che sia lo stato psicotico o crepuscolare o paranoico, la paura che si trasforma ovviamente sempre in angoscia nei confronti di un inesistente nemico, ma in realtà quel nemico c'è, c'è e è dentro e fuori di noi allo stesso tempo. Questo richiede pazienza e soprattutto quel grido molto sommesso, smorzato, che rappresenta l'angoscia, ha la necessità di essere accolto ed ascoltato perché neppure la persona che in quel momento temporaneamente lo ospita ne è consapevole. Ecco questo è il punto fondamentale. Noi abbiamo parlato della paura del coraggio, abbiamo cercato di approfondirlo, ma non abbiamo chiuso il discorso. Allora il coraggio è nella disponibilità perseverante di ascoltare l'insensato discorso apparentemente insensato che accompagna l'angoscia e la sua apparente follia e insensatezza sono un invito a un umile ascolto, a un paziente ascolto, che è possibile soltanto nella capacità di accogliere e ascoltare la dimensione dell'amore, cioè cogliere l'altro, che può essere lo Zacchea di bassa statura o il filantropo di bassa statura morale, e rivederlo appollaiato nel sicomoro e metterlo nelle condizioni, è una condizione che riguarda ciascuno di noi, di essere un portatore di salvezza perché non vi è solo quella parte, ognuno di noi non è semplicemente quella egoista che siamo, possiamo anche essere estremamente generosi. Dobbiamo però creare condizioni perché questo sia possibile. Buona giornata a tutti.